1944-2023 Dieci donne, i loro nomi sono rivolti, sono incisi, e oggi cinque donne guardano da una parte e cinque guardano da un'altra. Futuro e passato, questo è il presente. Sul libro Donne senza nome, scritto nel 1998, Cesare De Simone manda certi messaggi da leggere tra le righe, e poi Carla Capponi sul libro Cuore di Donna manda altri messaggi. Lasciamo come Comitato delle Fate questo, questo. Alla prossima!